Buongiorno a tutti, io sono Francesca D'Alsaso e sono una User Experience Designer. Da marzo lavoro a Torino presso Bitmama, un'agenzia creativa nata dal gruppo Armando Testa e dalla più ingegneristica Reply. A livello pratico il mio lavoro consiste in due macromondi, per così dire. Il primo è incentrato più sul mondo dell'utente, quindi sull'analisi del target finale, fino a definire quelli che sono i bisogni e i requisiti. Mentre la seconda fase è una fase più pratica, corrisponde praticamente nel rendere i requisiti e i bisogni, tradurli in una forma più grafica, che è quella diciamo iniziale dello sketching e poi di wireframe e mockup. La parte più difficile del mio lavoro è quella appunto di trovare una sinergia tra la creatività, la tecnologia a disposizione per il progetto e cercando sempre di rispettare quelle che sono le richieste di business. Fondamentale è stata la mia formazione al corso di interfacce. Lavorativamente parlando, le materie che più si sono rivelate utili in campo lavorativo sono psicologia cognitiva, perché permette un approccio molto più empatico verso quello che è l'utente finale e quindi anche poi la delineazione di quelli che sono i bisogni e i requisiti e dall'altra parte progettazione di interfacce, perché comunque ha posto una metodologia nel lavoro. Per quanto riguarda le materie dell'Human Computer Interaction e dell'User Centered Design sono state più utili come appunto una filosofia professionale come metodologia lavorativa. Fondamentale è stato anche il tirocinio che ho svolto in MTL, Mobile Territorial Lab. Si tratta di una realtà ibrida che cerca di coniugare da una parte il mondo della ricerca e dall'altro quello dei big data. Durante questo periodo di tirocinio ho potuto seguire lo sviluppo di un'applicazione per smartphone, Family Link, dove i genitori potevano creare e condividere eventi per le famiglie, per i bambini o comunque in ambito familiare, per così dire. Sicuramente l'università mi ha dato una presa di coscienza verso quella che è realmente la professione del User Experience Designer. Mi ha dato capacità di lavorare in team e in contesti differenti, perché comunque molti esami sono trattati appunto con la metodologia del progetto. Il punto che mi sta più a cuore è la sperimentalità di questo corso, perché comunque riesce a dare delle conoscenze di nicchia che servono in un contesto come appunto quello dell'agenzia e per una professione come quella della User Experience Designer. Grazie a tutti.